Allora, io mi sto sempre avvinando i pennelli con questo olietto che mi sono fatto, che è un olietto composto da un terzo di essenza di treventina, un terzo di olio di vino e un terzo di liquin o di un medium alchidico. Io sono abituato al liquin original, poi ci sono tanti altri liquin ma non conviene, perché hanno degli usi più specifici. Allora, adesso, avendo io tutta la mia tavolozza già pronta, con i colori già impostati, circa.